e allora caro polga noi ci spostiamo qui e cambiamo completamente mondo perché il mondo diventa questo qui di una benda sempre inglese storica che si muove si muove muovendo i primi passi a cavallo tra animals e the wall nel 1978 in piena era punk loro cosa fanno con altri riferimenti i riferimenti e soprattutto i personaggi cruciali sono due fratelli che sono i fratelli noffler due chitarristi di cui uno più talentuoso dell'altro due cantanti di cui uno più talentuoso dell'altro la cosa sfigata è che entrambe le cose sono tutte e due nella stessa persona che è mark e come si chiamava il fratello? non me lo ricordo ma neanche guarda no dai un po' te lo dico subito te lo dico subito arrivo eh lui è un figlio di un architetto David David Knopfler ovviamente ha provato anche a fare solista per un certo punto David Knopfler pure allora i Dire Straits si formano in un soborgo di Londra anche se non sono sicuramente working class sono hanno riferimenti culturali importanti sono persone indubbiamente colte si sente e eleganti e il mondo di Mark Knopfler è quello spregiudicatamente del blues americano quale blues americano? quello di J.J. Kale e quello forse dei bluesmen più tradizionali ma dei bluesmen più tradizionali dei grandi chitarristi quindi potrebbe essere B.B. King anche se per lui veramente il riferimento vero e proprio è J.J. Kale sia per quanto riguarda la vocalità che per quanto riguarda l'utilizzo della chitarra ma J.J. Kale ha delle composizioni un modo di scrivere musica molto più semplice rispetto all'idea all'obiettivo e a quello che lui vuole far diventare il suo trio perché all'inizio beh no è un quartetto in realtà è un quartetto io che David non lo calcolo mai però è David giustamente dice Cesare uno dei due ha perso il plettro e mai più lo ha ritrovato mai più l'ha ritrovato in realtà glielo lascia allora no uno dei due l'ha perso ed è Mark David continua a suonare col plettro sì allora è certo gli altri membri sono John Hinsley al basso e Pic Wheaters alla batteria questo quartetto va a cercare contratti lo trova con la Polydor Records e con la Polydor riesce a pubblicare nel 1978 il primo disco che è un disco devo dire molto interessante come sonorità perché sono delle sonorità che fino ad allora non si erano mai sentite manca però la complessità le canzoni sono da 4 minuti da 5 innanzitutto sono 9 canzoni quindi tante per tante per quelli che saranno i Dire Straits più famosi con l'eccezione di Brothers in Arms però sicuramente un numero un numero diciamo di canzoni con un sound che inizia a essere definito c'è l'idea la senti mancano tante cose ancora però per essere un primo disco è un disco che è di acerbo a poco no è un disco compiuto è un disco compiuto assolutamente manca un certo tipo di focus che poi matura dopo però comunque il disco è che gli vuoi dire? no nulla perché Down to the Waterline è una grande canzone Water of Love è una canzone carina Six Blade Life è una grande canzone vabbè salta su swing questa ragazzi poi devo dire una cosa su questa canzone perché questo è uno dei è un raro caso un raro caso Wild West End è una bella canzone Lions è una bella canzone è un disco bello ma allora allora è un disco bello se nel mondo della musica tu ascolti altro e questa band ti droppa davanti questo album e tu dici oh che roba è che roba è e chiaramente ti travolge perché ti sconvolge un disco simile no ovviamente è una roba completamente diversa dove andiamo ad inserire questo disco allora premesso che per me si dovrebbe oscillare tra grandisco e oltre con questo tutti ah vabbè dovrebbe essere tutti quanti tra grandisco io penso che sia sia il disco meno efficace di questa prima produzione beh vabbè anche perché vabbè ok io io lo metterei qua io lo metterei qua poi ne riparliamo dai io per adesso lo metterei qui allora amici io devo tirarvi le orecchie perché state quei birrette noi no perché ovviamente io come amico ho Polgar mentre Evan ha altri amici è certo però alle 23.58 io non ho più messaggi vocali non l'ho mai avuti cioè alla discussione sui Pink Floyd una delle discografie più storiche e più importanti e più conosciute del mondo il vostro contributo è stato zero messaggi vocali se non di Evan che comunque si è voluto buttare dentro perché ha un punto di vista critico quindi rischiando gli insulti certo quindi con questa insomma grazie Franci io con questa vorrei sentire un po' di più eh vabbè qualche messaggino dai qualche voto votavano sempre i soliti due mi raccomando partecipazione comunque io poi il posizionamento definitivo chiamavo Polgar la facciamo da soli offline non in diretta e abbiamo finito un'ora e mezza fa e volavano coltelli però comunque per me questo c'è di meglio mi stona comunque vabbè andiamo avanti però allora per esempio prendiamo il prossimo disco ok l'anno dopo comuniche nove canzoni nove canzoni come questo assolutamente però sono più belle once upon a time in the west allora guarda quante canzoni ci sono migliori once upon a time in the west è un pezzone assolutamente colonna portante dei live ma questa news questa è una cosa pazzesca news non c'è a parte saltanzo swing che fa categoria a sé fa reparto da solo ma tu non ce l'hai news nel primo disco però non c'è di queste due non ce ne hai manco le cose bisogna pure giudicarle per quelle che sono vabbè where do you think you're going ma che è sto pezzo lady writer allora lady writer questo è un disco secondo me da oltre ok lady writer portobello bell questo è un disco da oltre lo puoi mettere direttamente no come no no come no è un no è un gran disco allora eh ragazzi scusate cioè io adesso faccio fatica a parte mi rimetto news perché mi piace troppo questo è da oltre come tutti gli altri quattro successivi cinque successivi aspetta aspetta allora ho capito questi primi due dischi della fase della fase iniziale dei sidi dei pifredi sono quelli con nove brani esatto da questo momento in poi però vedi anche qui le durate sono simili a quelle del primo disco sì sì da making movies in poi cambia proprio la sostanza i day straight diventano i day straight no i day straight sono anche comuniché non sono d'accordo sono d'accordo no 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 cioè ciao franci ciao fran ciao ciao buonanotte immagino capisco allora ragazzi non mi puoi paragonare questo a making movies making movies è un disco superiore a questo sì è vero l'overcold è un disco superiore a questo è un disco superiore a questo sono tutte fasi diverse cioè no nella fase nella prima fase dei day straight questo disco è un grandissimo disco se lo metto come grandisco non oltre grandisco non te lo posso mettere come oltre va bene ma non posso metterlo vicino a brothers in arms questo disco va bene va bene cioè lo accetto sono ancora io lo adoro è la prima fase ma è una fase che è meno soddisfacente anche semplicemente a livello di scalette quante canzoni tranne once upon a time in the west vabbè dai no è seria però è un'osservazione importante se tu fai un live dopo love over gold è evidente che sicuramente gli ultimi dischi sono quelli privilegiati rispetto ai primi è normale non puoi giudicare la scaletta dei live ma che è un anno dopo allora premesso che per me making movies è più bello per me sta su per me making movies è il più bello che hanno fatto anche se ci sono delle canzoni che non sono perfette no però è un disco che secondo me attenzione non lo so se te lo metto su oltre ma per un motivo semplice non so se è perfetto allora è chiaro che per i canoni dei dire straits secondo me sta su in alto però non so se è perfetto perché secondo me secondo me les boys solid rock sono belle carine però è il primo disco è il primo lato di making movies è la prima canzone di making movies sì la prima canzone tu per me tu tre capolavori te li mettevi sette tracce sette tracce ok sei stiamo già parlando di making movies eh beh sì giusto sì abbiamo messo come uniche dove doveva stare quindi a questo punto c'è ma ragazzi ma c'è gli assoli e gli altri sei tracce vuote ma le code musicali con gli assoli prolungati arrivano in questo disco sì sono d'accordo infatti making movies è sicuramente oltre sì franci non si può parlare con Enrico no 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 io ascolto sì ascolti io vi ascolto oh mandate i messaggi ah belli ce l'avete la democrazia ve l'ho data sta scritta qua sopra 351 839 5732 non si scappa poi tra l'altro Tanner of Love nella versione di Alchemy è una cosa mamma mia no quello di allora poi facciamo il discorso Alchemy lì c'è l'eccezione di cui ti parlavo prima legata a Salt and the Swing però ma dove stai una canzone come Tanner of Love nei primi due dischi non c'è una canzone da 812 ragazzi una canzone come Tanner of Love non la trovi più tenendo conto il livello di ipnotismo non ce l'hai in nessun'altra canzone sono d'accordo su questo però ogni fase di un gruppo va giudicata come tale e i primi due dischi sono una fase ben specifica allora tra i primi due conveniamo che Cominiche è più bello del primo sicuramente sì e allora sei d'accordo con questa impostazione di classifica va bene infatti ho detto l'accetto perché comunque cioè credo è molto devi lasciare spazio per gli altri perché se Cominiche me lo metti subito oltre ciao Paolo ciao Paolo e dici te stesso a parte un ascolto dei primi due non hanno comunque mai fatto parte delle mie preferenze no ma Paolo andiamo a litigare meno male che vai a dormire qua veramente litighiamo fa mi senti Franci che dice e Evin che dice vediamo un po' no no aspetta devo passare boni 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 non c'ho l'autometismo aspettate state buoni state buoni e sto arrivando allora vai e niente c'ha ragione Gabriele che volete fare su che c'ha ragione su che co qual è il punto di Gabriele su tutto io l'ho scritto anche in chat making movies e da oltre e non ce stanno che razzi ma Evin che cacchio mangi te ogni volta mangi dalle ore vi ti sparate io ho una fame che mi si porta spesso si è mangiato un pezzo di pizza di mio figlio di ieri sera si esatto avanzato una fame terribile siamo a dei livelli veramente indicibili una fame tossica ragazzi allora parliamo di making movies perché bisogna parlarne di questo disco a tre perché il fratello David non c'è più qua è trio quindi sono lui John Hilsley e Pick Eaters molto bravi grande batterista Pick Eaters speccato che dopo era del poro Terry come cacchio si chiamava quel mostro madonna ragazzi che mostro quello di Alchemy e noi i nomi purtroppo no ragazzi quello non è quello non è un batterista adesso vi dico anche come si chiama tra l'altro io vorrò fare una puntata voglio fare una puntata di commenti commenti leggiamo insieme i commenti di Saltans on Swing dal vivo di Alchemy da Youtube ragazzi è una delle cose più belle da fare del mondo ci divertiamo come i matti solo a leggere i commenti e tra l'altro in uno di questi il batterista che adesso ha 71 anni il batterista di Alchemy quello della seconda parte l'Ira de Dio quello che in Brothers in Arms hai presente l'Attac allora chi suona la batteria in Brothers in Arms lo sai tu? Omar Hakim il batterista che poi suonò con Sting The Dream of the Blue Turtles sì questo è vero e non chiamò appunto Terry come Cribbio si chiama non mi viene cerca Alchemy cerca Alchemy non mi viene non mi mette le pressioni non chiamò quell'Ira di Dio ma lo chiamò soltanto per fare una cosa sai che cosa suona il batterista che piava pizza la batteria l'Ira di Dio di quel disco suona all'inizio di Money for Nothing ah giusto è vero quella parte la suona lui l'ha chiamato solo per suonare quella roba non gli ha fatto suonare adesso per pezzo Terry Williams Terry Williams ragazzi un applauso Terry Williams santo cielo che mostro uno dei più grandi batteristi della storia della storia ha 71 anni e negli ultimi mesi è commovente ragazzi io vi devo far vedere i commenti ha scoperto che esiste YouTube e ha scoperto che oltre ai video ci sono i commenti e nei commenti di Salt and Swing oppure di Tunnel of Love c'è scritto questo è il più grande batterista del mondo e lui commosso che dice ragazzi grazie ho scoperto adesso questa cosa grazie che mondo che mi si è aperto io ieri gli mettevo like come un pazzo c'era Terry Williams che scriveva nei commenti di Salt and Swing io sono impazzito sono impazzito questa non la sapevo no ma dopo ce lo facciamo un giro è per forza merita ragazzi i commenti di merita una cosa meravigliosa meravigliosa qua c'è Pickweaters bravissimo ma è un'altra cosa rispetto a quello è un po' la stessa per la cosa che provo per comunicate da Estrates e poi Mickey Moves proprio di un'altra categoria allora il primo lato di questo disco vedo che leggo Andrea che dice Mickey Moves fu il mio primo vinile per me quasi non ti dico che è stato il primo ma forse è stato il primo io ascoltavo solo avevo sette anni ascoltavo sei forse ascoltavo soltanto ascoltavo soltanto il primo lato perché il secondo che era quello più rock mi metteva paura vabbè mi spaventavo mi spaventavo espresso love solid rock era troppo chitarroso mentre il primo lato è morbido ed è super melodico il secondo io ho sempre avuto un problema con il secondo lato di questo disco ciao Betty tant'è che ciao Betty io non ho mai amato in maniera particolare espresso love o solid rock mi piaceva Les Boys perché era delicata hand in hand è una bella ballata ma rispetto al primo lato ragazzi tunnel of love Romeo and Juliet e Skateway sono una sinfonia a sé quel disco poteva essere fatto da tre canzoni per me anche da una come dicevo prima però va bene no madonna Romeo and Juliet dove me la metti potevi fare un disco con Romeo and Juliet no ma Skateway quanto è bella sono d'accordo però per me tunnel of love tra l'altro making movies viene proprio da questa canzone she's making movies on location tra l'altro è dedicata alla moglie sia Romeo and Juliet che Skateway sono dedicati alla moglie tunnel of love ragazzi ma che cacchio vogliamo dirgli per me tunnel of love è in assoluto uno dei pezzi più grandi posso mettere questo disco me lo concedete su oltre a parte la copertina è bellissima secondo il tuo parametro non dovrebbe stare su oltre oh no 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 sai perché sta su oltre perché non è un grandisco making movies è oltre perché queste tre per me quel lato lì non ce l'ha nessun altro disco eh no lo so sono d'accordo però quel lato lì ce l'ha forse il primo lato di Love Over Gold simile ma lì sono tre canzoni qua sono due quindi ne perdo uno capito nel 1982 tra l'altro l'ho comprato oggi in una buona ristampa vedi in venire due anni dopo questi qui ragazzi fanno uscire un disco di un'evoluzione musicale vanno sempre oltre cioè Mark Noffer ha un disegno in testa e ora che non c'ha più le zavorre eh certo la ruota libera fa dei dischi che sono impressionanti impressionanti Love Over Gold mi guardi se c'è qui c'è Terry Williams la batteria credo non credo che ci sia più Pick Withers non lo so a meno che Terry Williams non sia andato a suonare con i Piconi da Hellstraight nella tournée di Love Over Gold e che Pick Withers ne sia andato adesso guardami il personale di Love Over Gold vado sulle formazioni da Hellstraight no guarda Love Over Gold c'è scritto Personnel perché poi magari suonava un altro come in Brothers in Arms suonava poi Omar Hakim va bene Polgar c'ha i suoi metodi e io mi fido dei metodi di Polgar basta che me lo dice Basta che me lo dici in tempi normali Terry Williams 82-88 ok ma non mi hai detto se suona in questo disco perché per esempio tra 82-88 tra 82-88 c'è l'85 dove c'è Brothers in Arms ma Terry Williams non suona in Brothers in Arms suona quattro fill di batteria ciao Veronica allora guardami il personale di Love Over Gold sta lì ok e vabbè importante ovo personnel formazione c'è Pick Withers la batteria c'è ancora Pick Withers allora il mondo sempre più morriconiano di di Mark Knopfler sfocia in questo disco estremamente artistico complesso ancora più complesso di Making Movies di cui ricalca un po' la costruzione primo lato totalmente concept totalmente artistico secondo lato con quel rocchettino tipico dei Dire Straits che a me non ha mai fatto né caldo né freddo quello di Expresso Love Solid Rock Industrial Disease non l'ho mai amato non l'ho mai amato è lo stesso di Colin Elvis non l'ho mai amato mai amato per me i Dire Straits sono al Telegraph Road per l'investigation su quello siamo d'accordo però voglio dire legare a Love Over Gold è una bella canzone In Never Rain è una bella canzone tanto quanto lo sono in Making Movies Les Boys lui le canzoni sono un po' più lunghe di media sono un po' più lui è più libero attacca tutte buste sicuramente però finché mi attacchi la busta sulla storia della ferrovia dell'evoluzione industriale di Telegraph Road io divento pazzo divento pazzo che è una meraviglia ragazzi Telegraph Road è una cosa a me mi sostinge il cuore ma soprattutto io all'inizio odiavo questo disco per un motivo semplice perché aveva la pretesa di dover essere più bello di Making Movies e io non glielo volevo concedere mi stava sul cavolo amavo talmente tanto Making Movies che non potevo ciao Katia che non potevo permettergli di essere più bello di avere questa pretesa poi mi sono arreso perché effettivamente nell'evoluzione della band ero talmente legato a quel disco che non potevo permettere di avere un nuovo preferito non lo so perché poi c'è Private Investigations insomma eh ragazzi poi c'è Private Investigations che è una roba da stare male ma la cultura di questo arrangiamento spara un missile incredibile è la cultura di questo arrangiamento la bellezza di quella chitarra l'espressività della voce ah regà ma ma dove lo metti Love Over Gold Love Over Gold se dobbiamo mantenere secondo te vale Making Movies o il meno bello io penso che sia un pizzico meno bello di Making Movies però a questi due a Telegraph Rod allora ragazzi qua mi dovete aiutare se giudichiamo il disco dobbiamo mettere anche Making Movies in grand disco perché non è completo sia Love Over Gold che Making Movies in grand disco perché non è così completo come Horizon Arms allora no allora deve scendere con Minichè che però è più bello di quello cioè non posso mettere a ma cioè non posso declassare allora Making Movies e Love Over Gold sono due dischi che più o meno si equivalgono che hanno dei capolavori incredibili e hanno dei momenti non perfetti è vero che oltre è sembrerebbe essere un sinonimo di perfetto però in realtà può non essere così io credo che il primo lato di Making Movies e il primo lato di Love Over Gold si equivalgano in meraviglia sono d'accordo con te poi puoi dire sì mi preferisco questo qui o preferisco quell'altro ma sono colonne portanti però non sono dei dischi completi neanche Brothers in Arms lo è allora sì però non ci sono più però non ci sono più le suite è uguale non devi giudicare il fatto che manchino le suite devi giudicare la competenza del disco no però mi mancano io godo cioè a me lui mi doveva fare una stronzata tastiera e lui è otto ore da solo io godevo se mi faceva dei dischi così ragazzi secondo me io non voglio dire però secondo me loro c'hanno quattro dischi che stanno sopra sono d'accordo posso concordare se vogliamo fare proprio i ragionieri infatti Rosanna li metterebbe tutti quanti oltre io sono abbastanza d'accordo allora che cosa succede eh succede che fanno la tournée di Love Overgold chiamano quel criminale quella bestia di Terry Williams c'è anche Guy Fletcher che è il tastierista che è quello che trovate già in Love Overgold è il nuovo innesto nella formazione e devo dire che la tastiera allarga cioè il suono effettivamente di Love Overgold è un suono molto più maturo ed evoluto rispetto al trio cioè da trio sei passato a 5 cioè è diversa la situazione si sente proprio che è diversa la situazione si sente che è più sinfonico è una band è una roba diversa non sono più è come se ai polis gli mettevi altri due elementi eh capisci eh capisci lo faremo dei polis va fatto sui polis va fatto anche sui Genesis però sui Genesis poi andiamo a litigare perché per me lo facciamo sui Genesis di Peter Gabriel no 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 allora io non vengo io vengo e muovo parlate voi io parlo finisco lì allora che cosa succede qual è l'anomalia di Alchemy chiaramente loro mettono a fuoco la probabilmente più bella tournée di sempre della di questa formazione non credo che abbiano mai avuto un live più efficace la tournée di Brothers in Arms è meno bella le esecuzioni di queste stesse canzoni sono meno belle se tu senti l'esibizione all'Ive Aid di Salt and Soul Swing è meno bella di questa forse vabbè loro erano già no 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 allora loro entrano i Dire Straits vanno a suonare all'Ive Aid sono prima dei Queen tra l'altro se vedete il film Bohemian Rhapsody si sente la coda di Salt and Soul Swing prima che cominci prima che cominci il concerto dei Queen ma se il concerto dei Queen è il più bel concerto della storia guardate che gli dai a Straits all'Ive Aid ma di tanto così eh ma di tanto così parliamo proprio di tanto così perché Salt and Soul Swing che fanno lì è pazzesca è battuta solo da una versione da questa e c'è solo una cosa che è più bella di Salt and Soul Swing è Salt and Soul Swing dal vivo di Alchemy è uno dei pochissimi casi dove un brano dal vivo è migliore è superiore alla versione in studio si si perché senti che roba però è perfetta per me anche da Nero Vlog di Alchemy è perfetta allora ha delle parti in più però no preferisco la parte preferisco in studio mi dà più emozioni in studio è puro romanticismo io questa non gliela posso fare ho postato la storia l'altro giorno ragazzi questa parte non c'è non c'è su su Dai a Straits non c'è ragazzi sfidiamo l'algoritmo se crolla ci ricolleghiamo io non so quanti siamo siamo 14 possiamo sfidare l'algoritmo dai scusate sentite Terry Williams alla batteria ci ricolleghiamo qui ci ricolleghiamo qui ci ricolleghiamo Grazie a tutti. 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 Forse avrebbero suonato questa? Quella che poi tutti quanti conosciamo della batteria. Loro vanno a registrare negli studi di Montserrat che erano gli studi dove Sting aveva registrato da sincroni da sincronisti da sincronisti da Sting e da Sting. volta i Dire Straits vanno a registrare in questi studi e incontrano Sting lì e durante le sessions Noffler e Sting si incontrano e ne nasce l'idea appunto di questa collaborazione di Money for Nothing e quindi Sting presta la voce, cosa tra l'altro curiosa per una band chiusa come i Dire Straits, avere un featuring, però è chiaro che sì, Money fornatic è il primo video passato nella storia di NTV USA, quella internazionale, questo è Terry Williams, l'ha chiamato solo per fare questa roba qui, pazzesco, perché era l'unico che riusciva a menare la batteria in questa maniera, ok grazie Terry, Omar, è un piacere, per piacere Omar, veloce, grazie, arriva Omar Hakim e siccome Noffler voleva un disco molto più gezzato, più calmo, questo è un altro batterista ragazzi, per carità è uno dei più forti batteristi al mondo, tant'è che Sting, che sta allestendo la band appena sciolto i police, per il suo primo album solista, quello che poi sarà The Dream of the Blue Turtles, ha già ingaggiato Kenny Kirkland, ha già ingaggiato Daryl Jones, Brentford Marsalis, però gli manca il batterista, incontra negli studi di Monserrat Omar Hakim, non sa chi sia però, e allora Mark Noffler dice scusami non ci siamo presentati, non ti ho presentato lui, Omar Hakim, Sting, e Sting dice in questo momento il mio manager ti sta cercando a New York, e Omar Hakim dice ok perfetto, si mettono d'accordo e Omar Hakim diventa il batterista del primo disco di Sting, di The Dream of the Blue Turtles, e anche di tutta la prima torna, è poi immortalata in Bring on the Night, che è un disco assolutamente favoloso dal vivo, vedete, quando i dischi poi dal vivo sono eccezionali, vuole un'altra atmosfera, vuole un'altra atmosfera più gezzata, mantiene John Easley, mantiene Guy Fletcher, però sicuramente il disco ha delle atmosfere molto diverse, inizia con So For Away, un momento rock, smooth, molto tranquillo, Money For Nothing che invece è del tutto rivoluzionare con questo tipo di riff, Walk of Life che invece è un rock and roll estremamente divertente, poi iniziano a fare sul serio, è un momento debole probabilmente Walk of Life, perché sinceramente, vabbè, io l'amo Walk of Life, a me sta un po' sulle balle, però vabbè, no, per me c'è gara tra Espresso Love e Walk of Life tutta la vita, però ragazzi per me c'è, per me c'è questo, ciao, novità perché entra il sassofono che non c'è mai stato, sassofono che fino a quel momento è stata più, non so, maternale da Ray Street Band, no, c'è, un'altra cosa, però questa canzone chi gli guidi? È un disco molto più pop dei precedenti, se senti da una love di Alchemy, se senti da una love di Alchemy, certo, c'è il sassofono, certo, e beh, certo, c'era il sassofonismo, certo, era previsto, cazzone meraviglioso, c'è un pezzo, e poi a Worry, dai, questa è... che poi c'è un attacco strano, eh, perché è così, sì, ma non è preso benissimo, no, è preso benissimo, è che lo fa, lui ha il fingerpicking, la caratteristica di Marnoffler, per chi non lo sapesse, chi non fosse te, che sono due le caratteristiche chitarristiche di questo uomo, suona con le dita, con tre dita, questa che fa da plettro e queste due che pizzicano, ok, così, l'altra caratteristica è che tutti pensano, tutti, non tutti, che suoni una Stratocaster, in realtà non è una Stratocaster della Fender, è una chitarra della Schecter, fatta come la Stratocaster, rossa, fatta per lui, di una marca di chitarre che probabilmente conosceva solo lui, che è il suono della Stratocaster, ma non è la Stratocaster, è come se fosse un'imitazione della Stratocaster, capite? Come si chiamava la sottomarca? Schecter. Ah no, quella della Fender, aspetta, ce l'avevo pure, la... No, squeeze, no... Beh, no, come si chiamava? Ah, non mi viene, vabbè, non mi viene, non mi verrà mai, ce l'avevo, è stata la mia prima chitarra. Dopodiché ci sono canzoni come Ryder, Cross, Lider... C'è un grande merito come canzone, che è l'unica cosa che riesce a calmarmi. Sì, ma poi ha la coda, la coda di WayWari quanto è bella. Scusami, la coda di WayWari è questa qui. Questa batteria lontana. Sembra che stai in un'altra stanza. Adoro. Tra l'altro, forse è una delle più belle copertine di sempre, perché il rosa è il celeste di questa copertina, con questa chitarra national. Sì, è una cosa strepitosa. Ride Across the River, The Men So Strong, One World. One World forse è l'unico pezzo così così. Brothers in Arms... Parliamo veramente dell'apoteosi. E come fai a commentare un pezzo come Brothers in Arms? Regà, in questo disco secondo me c'è solo un posto. Eh sì, è anche prima degli altri. A questo punto, se dobbiamo rispettare lo stesso criterio... Allora, te li metto nel mio ordine. E Alchemy lo devo mettere dopo perché lo considero un'antologia per quanto abbia dei momenti straordinari. Vabbè, io non sono d'accordo, però va bene. Lo metteressi prima di Love Over Gold? Lo metterei prima di Make It Movies. Perché c'è il meglio del meglio. È suonato in maniera incredibile. Make It Movies ha anche un impatto visivo che per me... Ho capito quello che vuoi, però secondo me, da un punto di vista proprio della valutazione musicale, non delle emozioni che hai provato al tempo che ovviamente ti trascinano su altre direzioni, però sinceramente Alchemy è un live molto raro. Dopo il 1985 i destri praticamente si... Smettono. Si sciolgono. C'è un progetto intermedio strepitoso, secondo me, di Mark Knopfler, ma da solo, The Notting Hill Pillies, disco superiore, veramente superiore, di vero blues insieme a altri bluesmen con un paio di perle dentro, che sono la meraviglia, non solo da un punto di vista chitarristico. No, non è Squire. Squire è sempre Fender. Squire è... No, era Squire. No, come no? La sottomarca della Fender era Squire. In realtà è sempre Fender che la faceva. È come la Seat con la Fiat, ok? Degli anni 80, perché poi... Sì, degli anni 80, perché la Seat gli fa la riga a mezzo alla Fiat. No, non gli fa la riga a mezzo. No, però c'è un'altra marca che invece faceva le chitarre tipo la Fender, ma era finta. Era tipo l'Invita. Ah, ok, perfetto. Tipo l'Hardas. Ah, ok, perfetto. È diverso. Allora, nel 91, in un mondo musicale totalmente cambiato, è uscito il Black Album dei Metallica. è uscito Nevermind. E nello stesso periodo... È uscito Nevermind. Era ridosso dell'estate l'uscita di... Sì, sì, è uscito... Bravo, è uscito l'estate. E quindi chiaramente il mondo che Nofler invade, tra virgolette, con il suo disco, è un mondo totalmente diverso, dove i Dire Straits sono sempre leggenda, ma lo sono molto meno. Sono più un'eredità musicale che non un'attualità musicale. E il disco ne è testimonianza. Il disco Nevermind è un disco stanco, stantio, non ci sono guizzi particolari. Colin Elvis è una canzone carina, ma l'uscita come primo singolo di questa canzone comunque delude le aspettative dei fans che si aspettano di sentire qualcosa di diverso, anche perché tutti pensano sempre che siano passati sei anni e che come nel caso dei Tool ci abbiano messo realmente 13 anni per scrivere le canzoni, invece non è così. Poi probabilmente ti ritrovi e le devi scrivere in poco tempo, le canzoni, capito? Perché ci pensi... Secondo me in questo disco ci sono delle belle canzoni. C'è questa che è bellissima. Sì. Tra l'altro è uno dei dischi che suona meglio nella storia della musica. Se dovete testare un impianto di alta fedeltà, questo è uno dei dischi e questa è una delle canzoni su cui vi consiglio di farlo. Sì, poi... Anche Fittu Black. Sì. Le due lente. Sì, è On Every Street. Insomma, è... Sì. Le lente di questo disco sono delle belle canzoni. Però Heavy Fuel è una canzone sotto par che diventa anche un singolo ma non è bella. No, è una porcheria vera. Ticket to Heaven pure. Ticket to Heaven sono canzonacce. Sì, sì, quello sicuramente. è un disco... Io non te lo metto su inascoltabile perché non merita di essere inascoltabile ma secondo me è un ma... È sotto. È sotto. È sotto il primo. Sarà sotto, però non è che puoi sempre scalare. Ma è un disco da ma. Si può essere nello stesso livello in modi diversi. Ma nulla è stato mantenuto tra l'altro neanche successivamente di questo disco. Cioè questo disco a parte la sua stessa tournée. Bravo, è solo quello. E poi è finito. Poi sono finiti. Sì, ma non c'è proprio nella memoria. Mark Knopfler non suona niente di questo disco da solo. Vabbè. Non c'è. Anche perché se lo fai gli diranno qualcosa. Però... Vogliamo parlare di On The Night? Sì, no, è vero Andrea. È bella. Cioè è bella Fate to Black com'è bella questa canzone qui ma parliamo di due canzoni su dodici. Veramente troppo poco. Io ci metterei anche On Every Street. On Every Street lui canta molto bene. No, vabbè, ma per carità ma è un disco stanco. Un disco che non è... Sono finiti. Probabilmente dovranno rispettare il contratto. Posso dirti se la carriera dei Dire Straits fosse finita a Brothers in Arms sarebbe stata una carriera perfetta. Non c'è dubbio. Questi due appendici che sono On Every Street e On The Night come cazzo si chiama? On The Night sono due cose che rovinano. Forse alla Philips serviva una testimonial d'eccezione per il DCC che hanno usato per promuovere il DCC che è stato tra l'altro un progetto fallimentare proprio in mente però guarda a volte hanno fatto questo tipo di è anche l'artista stesso che perde un po' la cognizione del luogo pensa ancora che sia l'85 e invece il mondo musicale era proprio cambiato mi ricordo la tournée fu importante il Palauro era stracolmo assolutamente però ti posso dire che alla fine i Dire Straits sono sempre stati un qualcosa di estraneo al periodo in cui vivevano perché se tu pensi che il primo disco è piena era punk però è avanguardia però è un disco avanguardista molto particolare perché stabilisce un suono senza dubbio però insomma lontano dalle sonorità di quel periodo nel 93 la tournée appunto di On Every Street viene catturata in un album anche questo qui secondo me è un album totalmente sottopar è un album già per il repertorio che viene offerto che sono poche canzoni di grandissimo livello ma che davanti ad Alchemy tra l'altro è un disco che sparisce e io lo metto qua vicino al suo compare né più né meno vanno a braccetto io On The Night sono d'accordo sul Ma non sono d'accordo su On Every Street che secondo me può stare in c'è di meglio non può stare vicino a quel disco dai ripeto si può stare allo stesso livello in modo diverso allora ragazzi questo conclude questa parentesi anche sui Dire Straits che vi avevo detto sarebbe stata più breve però noi ci dobbiamo fare un giro qua ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.